Teletrading TV, The Web Trading Television L'apertura di oggi è stata in linea con la chiusura di ieri sera dalle ore 22, ma poco dopo, esattamente verso le 9 e 9.15, il DAX ha intrapreso un movimento di ribasso che l'ha portato all'attuale livello di area 7.050 punti. Possiamo infatti osservare sul grafico come l'apertura sia stata all'interno del livello di area 7.050 punti, dopodiché c'è stato un forte movimento di ribasso che ha portato il DAX Future da area 7.050 punti fino ad area 7.050. Se osserviamo sul grafico possiamo vedere non soltanto i livelli statici, quelli che abbiamo proposto e consigliato all'interno della nostra rubrica Trading Intraday, quindi livelli operativi statici in area 7.071 punti, ma anche livello dinamico. Quindi abbiamo tracciato un livello di supporto operativo sui recenti minimi, la violazione del livello statico e poco dopo del livello operativo ha dato un nuovo impulso ribassista che ha portato il DAX verso il supporto che abbiamo individuato in area 7.047 punti. Questi livelli, quindi l'analisi grafica fatta con livelli di supporto e livelli di resistenza, deve essere necessariamente integrata con degli indicatori. Noi proponiamo una serie di indicatori di tipo direzionali, in particolare il MACT e il SAR. Il MACT ha tagliato al ribasso questa mattina alle 9.30 e la stessa indicazione l'abbiamo avuta sul SAR che sempre alle 9.30 ha dato un segnale ribassista. Possiamo anche osservare invece che alle 9.15 l'RSI si trovava già in territorio di ipercomprato. Quindi una serie di segnali che potevano farci prendere posizione in maniera più tempestiva rispetto ai livelli statici e dinamici. Nel caso specifico l'indicazione sul SAR l'abbiamo avuta la rottura di area 7.104 punti. E attualmente il ribasso è stato ben seguito da questo indicatore che si trova in area 7.058. Quindi in caso di ripartenza del mercato area 7.058 è il punto di chiusura dello short intrapreso. Ecco, per chi volesse dei segnali operativi e della reportistica su mercati futures lo invitiamo a contattarci al nostro sito www.trendy.biz. Ecco, si trattano di report operativi con le indicazioni sui grafici, livelli statici e dinamici, indicatori, analisi ciclica e la previsione frattalica. Ecco, la previsione frattalica è una tendenza che il mercato può assumere nell'arco della giornata. Nel caso specifico possiamo osservare che abbiamo una tendenza di ribasso abbastanza pronunciata per la mattinata. Ecco, per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre al prossimo intervento su teletrading.it. Buona giornata.